il piano e poi il piano avremo proviamo andiamo ma sono io un salto di segnale un passaggio per i suoi e me vengo del quila fino a domani sono io un passaggio un passaggio di segnale un passaggio per i suoi e me vengo del quila fino a domani ho preso come un passaggio oggi vado a trovare le immagini che sta a paia di paio per portarmi incontro e prendo un paio di scarpe e di più e mi faccio con una grande scantata perché tra poco lo so che il passaggio che mi sta tenendo si va si sta sentando che si fai e me vengo del quila vina domani adora il passaggio che mi sta tenendo si va e mi sono e mi sono un passaggio che mi sta tenendo in un passaggio che mi sono un passaggio e mi sono un passaggio E a fine serata, vado a farmi giù per la calle E quando la tripa che mi guarda, mi guarda intensamente Perché sono io, per me sta tenendo sera E quando la tripa che mi guarda, mi guarda intensamente Perché sono io, per me sta tenendo sera E quando la tripa che mi guarda, mi guarda intensamente Perché ci devi essere la mania Grazie per la visione E' già rovni e però superiением non Hell che fosse statistico non fate Teiga bene oggi puoi diventare i amri e ho quello di chi derogalo più dalleры più eccoci un pochino mi ha avvisato relaxo E' cinquanta euro quando e' potrà ascolto ma c'è smettura leボdo Vie dico erano i miei filo Grazie a tutti Grazie a tutti